Andate tutti a pagina 194 Ora, data la complessità dell'argomento e dati il livello medio di questa classe se qualcuno è in grado di dirmi la differenza che passa tra un animagus e un lupo mannaro io mi arruolo in marina Puglione Granger, pensavo che la fossi assente Un animagus è un mago che sceglie di trasformarsi in animale Un lupo mannaro non ha sceglie Maledette le streghe Maledette il mione Maledette le streghe Maledette le streghe